Benvenuto nell'Agenzia per te, il nuovo modello di filiale del gruppo Cariparmacare di Agricole. Siamo nell'area SELT, un comodo spazio accessibile 24 ore su 24 dove si possono effettuare le operazioni tutti i giorni senza doversi recarli allo sportello. In modo veloce e in qualsiasi momento della giornata sarà possibile fare versamenti di contanti assegni, prelievi, pagamenti e tante altre operazioni. Una rivoluzione che rende la banca sempre disponibile. Le agenzie per te sono filiali evolute con accoglienti spazi senza sportelli dove si possono soddisfare le diverse esigenze. Un professionista accoglie ed indirizza il cliente verso le aree della filiale adatte alle operazioni che deve svolgere. Il nuovo concept è stato ideato per coniugare perfettamente efficienza operativa e calore relazionale. Le nuove filiali del gruppo Cariparmacare di Agricole sono pensate per il cliente, un luogo d'incontro dove puoi ricevere tutta l'assistenza di cui ha bisogno. Nuovi spazi che integrano la tecnologia senza renderla preponderante, che eliminano le barriere ed esprimono vicinanza. I consulenti saranno a disposizione in un ambiente informale ed accogliente. Siamo in uno spazio riservato dove il cliente riceverà una consulenza personalizzata da un gestore che sarà al suo fianco in un luogo che rispetta la sua privacy. Evolve così il ruolo dei nostri professionisti in filiale, ora a completa disposizione per soddisfare un'esigenza.